buongiorno buongiorno il conto ancora dorme poi sarà impegnato cucinzia io mi avvicino a fare colazione certo perché qualcosa mi devi mangiare certo qualcosa ma mangio non mi posso fare il caffè voi ormai lo sapete però sto rimanendo deluso perché non mi ronenti il caio niente oggi è niente guardate non c'è niente questa cosa si chiama la cloche la cocotto vabbè compo quello avete capito in frigorifero vediamo che c'è in frigorifero scelto non c'è niente fumaggi ciputti non c'è niente di mattina fumaggio ciputti niente voglio mangiarvi una di queste scelto la milk no 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 non mi fa la milk vabbè mi mangio una briochina del conte che se l'hai comprata sono qua in sicilia abbiamo queste briochine scelto poi c'è cioccolata magari bella tomacchio scelto e i siciliani cosa fanno con la tomacchio questo sta scelto aspettate che l'apro bene non so se da voi c'è esiste ma se c'è tomacchio comprate ve la spaccate con la nutella io non posso fare perché i brufoli mi assalgono mi amano e mi 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 accarezzano le mie carni è vero se ve lo potete farmi c'è nutella questo te conte allora io nascondo la carta la butto lo secondo lui si alzerà non scoprirà nulla conto su di voi che non gli direte nulla ma alcuni commenti scelto è chiaro questo video lo nascondo solo per lui non so come farò ma lo nasconde scelto comunque è sabato ragazzi io mi appresso a fare il bel lavanderino a pulsare tutta la casa a prestito è un pazzonente sicuramente voi non farete niente oggi ma io scelto vabbè a dopo a dopo